Una visita molto positiva, una visita approfondita, ha voluto vedere un po' le varie sfaccettature dei problemi della comunità di San Ginesio, quello che poi ho potuto dirgli che attraverso lo sguardo su San Ginesio, lo sguardo sulle Marche, perché quello che è accaduto qui è la storia di altri cento comuni marchisani che stanno vivendo le stesse ansie, le stesse difficoltà, le stesse speranze, la stessa voglia di ripartire. Il Presidente ha una chiarissima visione delle Marche, la conosce molto bene la regione e quindi la percezione che qui il terremoto è estremamente diffuso e occupa una grande parte del territorio, fatto appunto di tanti comuni, piccoli magari come numero di tanti, ma grandi come estensioni, ma anche di comuni più significativi che sono stati colpiti dal terremoto, ha quindi necessità e uno sguardo diverso rispetto alle altre realtà. Ha assicurato ovviamente che questa cosa non verrà trascurata, ma che ci sarà l'attenzione dovuta nella misura in cui il bisogno è stato rappresentato espresso. Ha confermato ovviamente la piena fiducia nei confronti di Arrani, di Curcio, di tutti quelli che stanno lavorando attorno al terremoto, manifestando questa come una priorità dell'attività del Governo. Ho chiesto una particolare attenzione su trasporti e sanità e lo ha ribadito anche il Presidente della provincia, vengo a dirlo allargando il tema della viabilità, cioè quei servizi che sono di sistema, che non riguardano il singolo comune, riguardano l'intera rete dei servizi del territorio. È chiaro che avendo necessità di rafforzare la risposta sanitaria nell'area interna, ma nello stesso tempo rafforzare nella costa dove ci sono più persone c'è uno sforzo particolare, dovendo spostare costantemente persone, studenti da un luogo a un altro c'è uno sforzo di trasporti straordinario, avendo bisogno di garantire le strade, anche al di là di quello che era il normale tran tran di manutenzione, la provincia ha bisogno di risorse per le strade. E sono le tre voci che in questo momento non è che rientrano in una risposta particolare, cioè abbiamo tutto quello che ci serve per la ricostruzione, quindi per le famiglie, per le imprese, fra Natale a Capodanno esce anche l'ordinanza sulle imprese, sia lievi che gravi, per poter ripartire dove si è, in un posto diverso, sui macchinari, su tutto. L'ultima, come abbiamo sempre detto, sarà quella di febbraio per la ricostruzione delle case danneggiate gravemente. Per invece le attività di sistema servirà un'attenzione particolare, un rafforzamento, perché in questo momento sta pesando tutto sulle nostre spalle, che ovviamente facciamo, non ci tiriamo indietro, però avverrà un momento in cui avremo bisogno di un sostegno esterno, perché immaginiamo che questa situazione comunque nel tempo si protrarrà, non è che riusciremo in sei mesi a arrivare in fondo alla ricostruzione. Quindi è importante questo messaggio, la consapevolezza del Premier ci fa ben sperare.